La prima amichevole abbiamo giocato questo scrimmage con Empoli sabato in casa nostra, direi che le ragazze è stata chiaramente una prima sgambata perché al completo avevamo fatto solo tre allenamenti, la squadra però ha dimostrato di crederci, di applicarsi molto, è ovvio che abbiamo fatto ampie rotazioni per non creare infortuni, per cercare di giocare tutte, perché tutte devono essere stimolate e chiamate in campo per la massima motivazione. A loro mancava una straniera a Empoli, però noi abbiamo fatto giocare anche le giovani ragazze di Castel San Pietro, devo dire che sono molto eratamente soddisfatto perché mai esagerare e esaltarsi, però i piedi amichevoli diciamo ci tenevano tanto anche perché era dopo sette mesi che non giocavano più, hanno dimostrato di divertirsi insieme e di essere attenti.